ciao a tutti bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo nuovamente su phoenix point gioco che vi è piaciuto molto ha fatto tantissimi visual cosa che mi importa relativamente però visto che c'è stato parecchio interesse avete reputato tutti comunque il gioco meritevole quindi che cosa ho fatto sono andato avanti a giocare sono andato avanti un pochino a esplorare quello che ha da offrire questo gioco e sono arrivato al punto di riuscire a ottenere abbastanza materiali per poter andare in uno di quei villaggi di quei di quella fazione molto religiosa ho pagato cibo pagato risorse varie per reclutare una nuova unità nuova unità che melda nixi esserman che ha un adesso se riesco a farvela vedere inventario che ha questo martello pugno di marduk marduk non glielo lascio gli ho dato preferito dargli una pistola che però fa pochissimi danni o comunque gli tengo nello zaino la sua arma originale e tra l'altro anche una bella una bellissima armatura addosso quindi è una di quella fazione lì per l'appunto quindi cosa è successo abbiamo finito una delle mission una delle ricerche scusate che avevamo pianificato e abbiamo scoperto che c'è questo scienziato il cui bisnonno è stato il fondatore di phoenix e lui ne ha visto praticamente alla fine e ha trovato diciamo abbiamo scoperto la locazione di questo luogo questo vecchio laboratorio insomma e abbiamo deciso di andarci quindi ci andiamo e cerchiamo di di liberarlo dalle da queste unità ostili allora io al momento ho notato anche prima ancora di entrare ce ne sono alcune all'esterno ce ne sono due di là e una di qua quindi io vedo se riesco adesso a spostare questo qua nonostante si faccia sempre dell'ironia sulla mia incapacità di a fare queste cose insomma proviamoci allora possiamo sparare a lui devo ancora capire bene come funziona la percentuale di colpire però insomma possiamo sparare a c'è anche un'altra unità che ho perso ce ne sono un sacco io sparo a questa qui direi di sparare questa qui davanti e vediamo che cosa succede e vediamo gli abbiamo fatto un po male e risponde anche al fuoco fortunatamente ci manca va bene cerchiamo di ne ha vista anche un'altra tra l'altro quindi eccola la di là quindi cerchiamo di andargli in supporto facendo attenzione a chi portiamo perché ho scoperto un'altra cosa che le armi pesanti quindi quelle che porta questo tizio qui le tengono all'altezza della vita quindi quello che cambia è che se noi scusate adesso sto riflettendo dove andare è che se noi ci mettiamo dietro una un riparo è difficile poi sparare da dietro questo riparo allora vediamo un attimo se riesco a fare una una cosa con questa tizia che ho nascosto qua abbiamo una granata tecnicamente sì ma non abbiamo abbastanza punti per muoverci tra l'altro questo qui è pesantissimo quindi lo muoveremo probabilmente qui dietro cercando magari di lanciare una granata con lui no non abbiamo punti sufficienti nemmeno con lui la vede un po come un'ecatombe questa questa cosa questa missione però va bene sarà una disfatta pazzesca ci nascondiamo qua dietro magari qui così rimaniamo ben nascosti e temporeggiamo non abbiamo molto da altro da fare quindi decido di passare il turno anche lui questo non può fare niente questo non può fare niente passiamo il il turno non sembrano neanche temibilissimi ultime parole famose però bisogna vedere se queste caricature sono in grado di sparare a distanza o meno ma sparano sì qualcosina sparano sicuramente ma adesso vediamo perché siamo fortunatamente un po lontani quindi magari non ci attaccano subito riusciamo subito a spazzare via qualcuno e ritenerci le granate per quando avremo ok eccolo qui si spara decisamente spara ci ha tolto metà della vita però abbiamo un'abilità di questa persona che aveva diciamo imparato è andata è andata l'abilità di punto di rispondere al fuoco e abbiamo perso già un'unità abbiamo perso un'unità e mannaggia quanto è cattivo sto gioco però io vorrei adesso però vedere se riesco con questo tizio qui che ha il fucile vediamo se riesco a lanciare una granata subito no gli faccio fare due passi lo faccio muovere qui è una ischio però tanti punti vita quindi magari riusciamo a dargli fuoco gli togliamo poca vita però in effetti a quello che ho visto sì e poi si incazza e spara ok da bisogna assolutamente agire bisogna assolutamente andare andare la risparare perché vediamo se ha possibilità questa di sparare voglio capire esattamente mannaggia sta arrivando sta arrivando quindi io direi che la possiamo questa persona qui la muoviamo vediamo se può magari lanciare una granatina no no vediamo se c'è qualcun altro che può fare meglio facciamo muovere fin qua puoi lanciare una granata e andiamo granate ormai sembra la soluzione più più saggia e gli toglie un bel po ok abbiamo uccisa quindi a questo punto io la faccio muovere qui e vediamo se riusciamo a recuperare quello che aveva nello zaino questa sfortunata e tra l'altro è morta proprio la nuova recluta peccato era anche di livello più basso era di livello 1 e purtroppo ha fatto la fine che ha fatto allora vediamo un attimo chi può attaccare ancora questa persona qui può attaccare vediamo se ha granate da poter lanciare ma io non credo non sono molto positivo in proposito allora quella è lontanissima però vediamo se può attaccare altro e puoi fargli danno vediamo possiamo colpirlo alla testa vediamo cosa succede ciao no direi che ti nascondi dietro qui e la facciamo finita altri che possono muoversi eh no direi che passi il turno eh sì adesso andiamo verso la la morte è difficile davvero molto molto difficile questa è la zona di estrazione mannaggia 20 danni beh su 160 però ottimo che c'è questa abilità di rispondere al fuoco che poi una volta che arrivano a livello avanzato riescono anche a cambiare classe da quanto ho capito comunque vabbè sono un po' tutti in allerta e vediamo se riesco a fargli sparare a qualcuno magari lo metto dietro qua sicuramente è un gioco che una volta imparato si potrà padroneggiare no direi che non devi sparare di là devi sparare di là però no a sto punto non lo so se ti faccio sparare eh no puoi sparare lì puoi sparare lì con l'iconoclasta vediamo un attimo il braccio o all'arma proviamo gli ha danneggiato l'equipaggiamento perfetto questo qui invece cosa può fare puoi lanciare una granata sì ottimo però puoi fare magari un eh no però c'è anche questo tizio qui di qua eh che mi fa un po' paura vediamo che altro possiamo muovere allora tu poi hai ancora granate no però puoi sparare vediamo se puoi sparare a questo vediamo all'arma o alla testa e direi che qua vedete che uscilla un pochino il danno fallimento cioè proprio proprio niente spara liberamente allora almeno ok l'ha quasi ucciso adesso eh vediamo se eh riusciamo a mh far qualcosa di utile vediamo se lo faccio muovere qui mi restano vedete più punti azione quanti punti azione mi servono due quindi se mi muovo qui dovremmo ancora avere abbastanza sì dovremmo avere due punti azione per lanciare la granata sperando in bene eh sì infatti dai ce la facciamo buttiamo una granata ma per una buona causa perfetto belli anche gli alberi che saltano via e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare adesso questo lo faccio riparare qua dietro così magari evitiamo quanti ne restano un paio ancora esce questo eccolo lì speriamo che boh niente è andata veramente malissimo sta missione niente devo devo imparare maggiormente a ehm a giocare c'è poco da fare perché ehm non 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 allora tre punti per sparare se mi muovo qui non ho più punti se mi muovo qui dovrei avere tre punti quindi proviamo dai a questo punto proviamola sparo in automatico vediamo la testa ma dai niente siamo rimasti solo in due quindi a questo punto ehm per sparare vediamo un po' per sparare due punti quindi posso muovermi se rimango fermo qui posso sparare due volte però io vorrei muovermi per aumentare un pochino due punti abbiamo detto eh due punti muovo qui speriamo di ucciderlo di colpo perché se no si mette veramente male allora io gli sparo al braccio ehm perché la testa è un po' coperta quindi o anche alla gamba niente ragazzi siamo praticamente morti si è reso praticamente occultato e ce ne ha ucciso un altro mannaggia sta andando proprio malissimo questa missione malissimo sta andando proprio si ha individuato il allora ti muovi qui e spari spara così dai cavolo niente missione finita mamma mia mamma mia no voglio fare una cosa più tattica ancora vediamo un po' scomoda questa cosa del muoversi così però ok 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 sta uscendo quello e adesso sta vabbè affrontando il il mio soldato più coriaceo ma che ovviamente non ha più magari riusciamo a prendere dallo zaino qualcosa ma no direi di no abbiamo un medikit però possiamo decidere di di usarlo no però no non ha non ha senso ehm tre colpi per sparare vediamo da quale posizione potrebbe essere più comodo colpirlo direi da qui forse spara ok dovrebbe essere ok abbiamo ucciso anche lui terminiamo il turno e vediamo se c'è qualcun altro ancora in giro eh niente iniziamo a muoverci ed entrare voglio vedere all'interno se c'è qualcuno anzi magari ne approfitto e ricarico le munizioni però non lo so onestamente forse avrei potuto si giocare più d'attesa dietro alle protezioni ne farò tesoro per il futuro questo sicuramente andiamo al piano di sopra magari troviamo qualcosa bisogna fare attenzione molta attenzione saliamo con circospezione e vediamo se c'è qualcuno sopra sembrerebbe di no però dobbiamo andarci su prima di scoprirlo ok ok ottiene il diario dobbiamo trovare il diario dove cavolo sarà il diario non ne ho idea che sia qui dietro andiamo andiamo a vedere o qua scusate adesso io ne approfitterei per usare questo nell'inventario così mi curo stiamo un po' più tranquilli tutti magari al prossimo turno io onestamente non lo vedo il diario adesso qua sotto non c'è dovremo salire ulteriormente sì di sopra quindi direi che potrei pensare di uscire fuori qui prossimo turno usciamo e poi magari andiamo su col jetpack ok ah no c'è la scala qua forse ok ci muoviamo sopra ok abbiamo ancora una di uno perfetto ok andiamo qua e recuperiamo questo maledetto diario almeno credo sia qui o qua non so dove sia non so dove sia onestamente no non è neanche questo però non c'è più nulla qua quindi anche sopra anche sopra non c'è niente quindi ah dice qua però continua a evidenziarmi questa zona qui quindi magari prossimo turno c'è qualcosa eccolo qua ah eccolo qua obiettivo abbiamo recuperato il diario perfetto è stata veramente veramente difficile lui ha fatto un altro livello gli altri sono veramente morti malissimo quindi è stata dura è stata senz'altro dura adesso vedete questo è il mezzo che sto sviluppando che vi avevo fatto vedere qualcosa già l'altra volta siamo ancora in sviluppo perché non ho fatto passare troppo il tempo esaminiamo i documenti vedete come andiamo avanti si individuato tra i siti chiave che Science riteneva particolarmente rilevanti per le sue ricerche nella storia del progetto Fenix e i suoi primi focolari malattie insolite dobbiamo assolutamente mandare in esplorazione i nostri agenti non appena le condizioni trate che lo permetteranno abbiamo aggiunto luoghi alla mappa abbiamo ottenuto 100 di tecnologia e 300 di materiali quindi dovremo velocizzare un pochino la ricerca e poi ci sono questi intermezzi che portano avanti la storia la mia mente è la migliore che ho per farlo funzionare e mi serve il silenzio la storia del progetto Fenix è un interccio complesso in Russia e Turchia Gran Bretagna e Spagna non è un'unica discendenza diretta ma un graviglia di organizzazioni in cui lina passa al testimone alla successiva con un unico obiettivo proteggere la specie umana sì perché siamo qui per questo e al momento siamo guidati da un completo incompetente cioè io perché li ho fatti morire praticamente tutti tutta la squadra che abbiamo giocato anche la volta scorsa più la nuova recluta che mi ha costrato con un occhio e la testa quindi niente adesso vedete che ho esplorato un pochino tanti punti di domanda ancora tante zone avevo sbloccato questa zona qui che era il sito di esplorazione mi mancano un giorno e un'ora per la fabbricazione dello scarabreo e nove ore per l'autopsia di Arthron e adesso siamo in questa nuova zona lui continua a scansione ci fa vedere le navi in movimento ovviamente vedete che possiamo andare al rifugio al rifugio vabbè ci andiamo ci muoviamo tante volte ci viene data la possibilità non in questo caso di razziare le altre zone oppure di reclutare qualcuno vediamo se abbiamo la fortuna di avere qualcuno di reclutabile in questo caso no li giriamo un po' tutti ecco sì c'è il simbolino del soldato lì quindi dovrebbe esserci qualcuno qui in fuorifugio e vedete che qua si può reclutare un soldato ma non c'è nessuno quindi in pratica non abbiamo abbastanza no non c'è nessuno basta qua ce n'è uno giallo arancione quindi vediamo che cosa succede intanto passano le ore tra un'ora abbiamo finito ok abbiamo finito anche l'autopsia di questi mostri qui e otteniamo info sulle mutazioni si suppone studio di registrazione ok origine geneticamente cinque artropode 15% umana 60% sconosciute combattimento la loro intelligenza subumana permette di utilizzare armi incorporate si sono quelli che ci hanno fatto la pelle adesso clonazione e mutazione ok abbiamo ottenuto nuovi oggetti fra la fabbricazione la goliath gl2 lancia granate e le munizioni relative ottimo interessante vediamo se qui c'è qualcosa che possiamo prendere ecco vedete qui avessimo del materiale abbiamo i punti ricerca sufficienti abbiamo il cibo sufficiente ci mancano una sessantina circa di 58 di materiali per poter reclutare Alan Talisman Willard quindi non possiamo farci nulla al momento dovremo esplorare un po' in giro questa è una zona torniamo alla alla nostra base e vediamo infobase vedete possiamo andare a costruire altre cose ma ovviamente non abbiamo nulla che ci manca purtroppo qui non possiamo reclutare nessuno abbiamo il personale l'unico è questo possiamo dare ad aumentargli l'addestramento a livello 4 gli possiamo dare la nuova classe ecco è qui il punto che vi dicevo non abbiamo ancora no siamo a livello 3 quindi non posso quindi per donanzarmi pesanti gli do un 10% di ok di precisione in più sono abbastanza abbattuto da questa cosa tra l'altro in effetti si non l'ho fatto l'altra volta in modo stupido tra l'altro posso spendere dei punti azione che lui ha accumulato per aumentargli le abilità vedete che i punti azione dovevo spenderli prima io direi di puntare magari in velocità la forza non mi interessa più di tanto al momento vorrei aumentare la volontà e poi la velocità ho fatto una castroneria la volta scorsa a non aumentarlo e qua abbiamo un punti azione fenix che in realtà non so ancora cosa mi servono comunque abbiamo le armature abbiamo lo zaino abbiamo un medikit che io gli faccio equipaggiare come cosa veloce ovviamente adesso lui è un po' ferito quindi facendo passare il tempo qua all'interno della base ogni tre ore lui si cura di un po' completato il progetto di ricerca armi neurotossine abbiamo vari obiettivi abbiamo altre zone da esplorare siamo sempre qui nel sud america vediamo le ricerche sono veramente tante adesso quelle da fare bisogna capire un attimo che cosa fanno bisogna prendere magari qualcosa di veloce che ci dia dei magari tra gli effetti bonus ci dia dei materiali anche se dubito ok questa l'evoluzione Pandora ci da del però tra sei giorni potrebbe essere controproducente possiamo prendere questo autopsia verme di fuoco che potrebbe darci la possibilità aspettando un giorno intanto vediamo anche cosa succede nel mondo se aspettiamo tanto aspettiamo un giorno abbiamo completato la scansione intorno abbiamo ok il luogo dei veicoli di terra Fenix Point quindi abbiamo anche un mezzo che possiamo portare in giro dovremmo avere sì un veicolo alla base ce lo porteremo in giro magari la prossima missione aspettiamo 12 ore intanto vedete anche che c'è il ciclo giorno notte e qua si sta anche espandendo un po' alla XCOM il virus quindi attenzione più sia lontana ciò che la minaccia è andato di fatto ok ci stanno come già detto la volta scorsa ci stanno cercando di portare su una via diplomatica abbastanza dura nei confronti di questi gerico c'è ancora ok è cambiata la situazione politica si odiano tra loro ok potere cerebrale messaggio dal sinedrion questa tecnologia neurale nuova gerica di cui abbiamo sentito parlare sembra roba forte dico davvero nessuno ha pensato che potrebbe fare un grosso abuso da parte non so di un leader autocratico mamma mia cosa risponde è una possibilità preoccupante è vero ci ha migliorato ha parlato a tutti ci ha peggiorato le relazioni tra tutti è migliorato tra noi il sinedrion però non lo so aspettiamo altre due ore intanto si sta espandendo in modo preoccupante ricerca completata abbiamo completato quella abbiamo ottenuto altre risorse ma credo che non credo di averne sufficienti per poter andare a reclutare qualcuno vediamo ma tra l'altro non c'è nessuno che possiamo reclutare qui credo non vedo più puntini quindi in fuorifugio no non c'è nessuno era qualcuno che potevamo reclutare qui ma al momento credo non ci sia più ah no eccolo qua Alan Talisman ce lo prendiamo stavolta abbiamo preso abbastanza risorse l'abbiamo reclutato ora abbiamo abbastanza fretta quindi dobbiamo spostarci a nord spostarci possiamo andare a vedere la nuova ricerca io me la lascio un po' qui analizza vediamo ci da un'arma pesante un'arma vedete ogni ricerca ci da un'arma o un effetto ora possiamo scambiare le risorse con i rifugi è interessante questa cosa quindi io ricerco questa poi vedete posso metterne altre sotto non lo so al momento io aspetto questa vado sul personale abbiamo Alan Talisman Willard che è una uno di quelli di quella classe lì e ha un botto di roba nello zaino che è la roba dell'altro che era morto e che abbiamo recuperato quindi possiamo dare un'occhiata all'armatura mi sembra uguale si direi che è praticamente uguale quindi non tocco niente ha questa arma qui che fa 140 di danno dovremmo mandarlo addosso direttamente potremmo tentarla come cosa alternativa a un'arma pugno e si è la stessa la stessa dell'altra più un'arma che fa 100 danni gli avevamo dato questa pistola che ne faceva 50 in modo stupido potevamo fargli sparare direttamente con quest'arma sono stato un idiota ma ovviamente sbagliando si impara quindi insomma io interrompo qui abbiamo sviluppato lo scarabeo quindi abbiamo un mezzo di terra volendo lo possiamo andare a provare non so ancora come funzioni quindi se il gioco vi ha intrigato volete vedere un altro episodio fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti ed eventualmente registrerò anche il prossimo episodio intanto io vado a salvare la partita spero il gioco vi sia piaciuto spero il video vi sia piaciuto per quanto io sia scarso ci ho sempre fatto dell'ironia sopra c'è comunque una mia volontà di migliorare quindi siate buoni anche voi nei commenti alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie a tutti